Non è possibile, non è cambiato niente, non abbiamo fatto niente Oh, era esploso eh Certo che era esploso Ragazzi ho la bomba io qua Ma non è possibile, l'abbiamo usata, l'abbiamo usata No, ve lo sento che ero nel laboratorio, accidenti Ma porca miseria, ma non esiste, no, 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 fermi Allora quella lì, dammela prima di tutto, dammela subito Non esiste, raga, non esiste, è impossibile Eh io ricordo che era esploso tutto, tutto Ah, porca vedere, si era chiuso il mondo Era rotto Tanto che l'esplosione era apocalittica Si era terminato il mondo E qua non è cambiato niente Ora non dico non che io mi aspettassi Che si sarebbe distrutto completamente tutto Però sicuramente Noi la bomba Raga l'abbiamo messa lì L'abbiamo messa lì in mezzo ai tavoli E non c'è nulla Non c'è niente Non c'è neanche un blocco rotto Sì sono anche vivi loro infatti E quelli noi li abbiamo uccisi E' come se fosse tornato tutto indietro A subito prima Che noi mettessimo la bomba Quando eravamo qui Noi eravamo qui davanti Perché come? Chi è stato? L'intuso per forza È stato lui Ma è già successo una volta Ti ricordi quando tu hai messo la bomba Nella ender chest Non c'era Perché era tornato indietro Secondo me l'intruso ha usato una piuma Questo è un po' assurdo da dire Venite intanto però mettiamoci in cammino Perché dobbiamo trovare dove cavolo Vogliamo diventare invisibili prima Sì sì è un'ottima idea C'è ragione Sì sì diventiamo invisibili Aspettate ti è Ok la prendo prima io Poi la passo a Mario E Mario poi la passa a Stefano Va bene sbrigatevi Dai veloce Mario Secondo me l'intruso ha usato una piuma Per riportare indietro il laboratorio Cioè alla fine la piuma non fa altro Che riportarti indietro Prima della morte Quindi praticamente Grazie della flasca Quindi praticamente Credo che lui Abbia usato la piuma Per salvare la vita Alla sua struttura A tutto il mondo Non dovrebbe funzionare Ragazzi C'è il volion qui Fermi fermi Non ci vede lui Non ci può vedere raga Non ci può vedere Infatti vedi che non sa dove siamo Però ci sta cercando eh Ci sta cercando Vedi Adesso è andato Verso la zona Ad alto contenimento Noi andiamo verso la direzione opposta Nella zona a basso contenimento Ok Venite dietro di me Ok va benissimo Sarà un po' difficile per voi riuscire Se vuoi È difficile eh Riuscire a capire Prendi a spada Prendi a spada Tengo il piccone in mano va bene Mi vedi Io ti sto proprio dietro Vai 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 Non perdetemi di vista Continuo ad andare Io non so dove stiamo andando Dove può essere Anna Tu Anna da quello che puoi vedere Ti orienti Sai dove sei Non lo so Io sono chiusa dentro una cella Che però ha delle pareti strane Non sono bianche Sono tipo tutte A righe marroni e nere Ok ok E la porta non ha serratura Quindi io non posso uscire Provo a muoverti Magari vediamo il nome Raga abbiamo trovato la stanza Dove c'è Evil Lion Dove l'intruso crea Evil Lion Però aspettate un attimo Fermi eh Non entrate Questo non è Evil Lion Chi è? No È Anna È Anna Cosa? Come è Anna? Come hai detto scusa? Sei tu Sei tu È una versione Eh raga negli angoli Mettetevi negli angoli Che se entra Gasser Stai scherzando spero Siamo fregati No non sto scherzando Scema Sei tu Sei tu Ecco perché Ecco perché stavo cercando Di mettermi su uno scaffale Per non Perché ho paura Che arriva Gasser Perché queste sono sue cose Lui sta sperimentando Per creare queste schifezze E quindi ho paura Che lui possa entrare E vederci Ho anche Evil Lion stesso Eh non lo sappiamo E se passa qua è la fine Stiamo chiusi Eh sì Eh sì Infatti lui non ci vede Però può sentirci Se eccolo Infatti attenti 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 Vedi che è lì fuori È fuori dalla porta Occhio occhio Guarda guarda Evil Lion Si sta tipo mezzo svegliando Oh mio Dio Stai scherzando Ti prego Non ci alzi Sta muovendo la testa Quindi praticamente Come se l'avesse sentito Io credo che tu Anna Sei stata rapita da Evil Lion Perché lui vuole creare Una versione Evil Anche di te Come di se stesso Io sono La sua versione buona Allora sai cos'è Io ci ho pensato Ci ho pensato Tu hai bevuto il sangue dell'intruso Poi è stato creato Evil Lion È vero Io ho bevuto il sangue dell'intruso Poi è stata creata Evil Anna Anche Mario Anche Mario l'ha bevuto però Io solo lui io non l'ha bevuto Raga potrebbe esserci Una versione scattiva Potrebbe essere collegata Di tutti noi praticamente Cioè una versione malvagia Attenzione perché lui è fuori Proprio fuori da dove siamo noi Quindi io vi propongo una cosa Aspettiamo che lui entra dentro Perché tanto sta per entrare Cioè lui vuole entrare E noi appena Ecco adesso Pronti Via Fuori 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 Tutti fuori siete Andiamo via Torniamo Precisi indietro Verso il corridoio Da dove siamo arrivati Ok attenzione ad ansia Perché non si capisce niente Però non fermiamoci Non fermiamoci Non fermiamoci Apro la porta Sbrigatevi Dritti 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 Ci siamo ci siamo ci siamo Io vorrei capire dove cavolo è finita Anna Ma sinceramente non riesco a vedere Neanche il nome Anna Prova a saltare Fai qualcosa Ok provo a saltare Anche perché nemmeno io vedo il vostro Ma forse perché siete invisibili Raga voi Eh no noi siamo invisibili Voi vedete qualcosa Avete visto Forse di qua Ho visto qualcosa Vedi laggiù Nella zona ad alto contenimento Zona rossa Esatto sì Ok proviamo ad andare di là Allora ci siete entrambi Anche Stefano Vai 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 Ho visto anche io qualcosa Io non vedo niente Però mi fido di voi Dritto dritto giusto Dritto così La vedo è vero Non ci sembrava Sì sei tu Anna Ti vediamo sei qui Sei qui Davvero dove Sei siamo fuori dalla porta Internal security department Sei qua dentro Mi sembra Ma sentite di aprire una porta Forse sei veramente tu No eccoti In fondo In fondo Eccola qua Anna sei qua Sei qua Oddio Vedi l'ho chiuso qua dentro Passale la flask Eh sì Bevi la flask Potevi spaccare la porta però Porca miseria Anche a mano E non ho niente Almeno potevi aiutare Almeno era sicuro Avvero eh Così nessuno ti poteva fare del male Ci potete aprire la porta da fuori però Perché adesso noi siamo bloccati qua dentro Oh cavolo E non c'ho la card Va bene Allora risolviamo la questione alla mia maniera Va bene Rompo la porta Poi la rimetto Così sembra che non abbiamo toccato niente Anna sei fuori Ok perfetto Allora ascoltatemi Fermi un attimo Cerchiamo di riorganizzare le idee Io non vedo nessuno di voi Però sono sicuro che siete tutti qui davanti Giusto? Ci siamo Ci siamo Metto una torcia perché siamo un po' al buio Allora Mi raccomando concentrati Dunque Secondo la mia teoria L'intruso ha usato una delle sue piume Cioè le nostre Per riportare indietro la vita Del laboratorio Della struttura del suo laboratorio Ma magari più di una comunque Oppure la potenziata Una piuma potenziata per riportare in vita tutto il laboratorio Può essere Può essere Potrebbe essere Visto che normalmente funziona solo con una persona per volta Fatto sta Che se noi vogliamo distruggere questo posto Ed impedirgli di creare il suo esercito Dobbiamo prima distruggere le piume Perché finché lui ce le avrà Questo posto sarà indistruttibile Lion il problema è che a questo punto Le piume non sono qui Perché se lui è uscito ad usarle Non erano qui Potrebbe essere che lui se le sta portando appresso Ma in quel caso ragazzi Siamo spacciati In quel caso l'unica speranza che abbiamo È fargliele consumare Allora io vi propongo di fare un'altra cosa Facciamo un'altra cosa Noi adesso andiamocene via Lasciamolo stare questo posto Perché per il momento fidatevi che non riusciamo a fare niente Ce ne torniamo nel nostro mondo Ok io fermo tutto Torniamo nel nostro mondo Stiamo molto attenti ai Volion Perché sembra interessato ad Anna Quindi dobbiamo impedire Che venga presa Anna E ricordiamoci che da adesso in avanti Ci sarà anche la versione cattiva di Anna Bene Siamo ritornati nel Reame qua dell'Apocalisse Che non è il posto migliore dove stare Però finché non abbiamo terminato Direi che non ce ne possiamo andare Ci sono diverse cose che dobbiamo ancora fare In questo momento ci troviamo all'interno Di una specie di Guardate È terribile questo posto È impossibile camminare qui Non si riesce neanche a camminare È tutto fallo Non puoi saltare Non puoi fare niente Sì è vero È peggio della palude Anche se nella palude Rischi di sprofondare e morire affogato Quindi non so quale è peggiore Però Se guardate dritto di fronte A dove sto guardando io Vedete che c'è una struttura Molto grande Tutta fatta di specie di radici È un castello tipo? Sì è tipo un castello Non so Ma mi sembra che ci sono delle barriere verdi Sì le vedo Le vedo Delle barriere verdi Che sembrano tipo liquide Le vedo Non so che cosa sia Ma sicuramente ci dobbiamo andare Ok probabilmente Come la attreversiamo la barriera? Aspetta Una volta che saremo lì Il modo lo troviamo Però credo che quello lì Sia il secondo dei grandi antichi Cioè noi ne abbiamo sconfitto uno Che era quella specie di mummia Adesso ci manca il secondo E il terzo E poi in teoria dovremmo Svelare questo posto Come c'era scritto Nella mappa Che io ho visto l'ultima volta No questo qua è Che pensiamo c'ha dato Evil Lion Giusto Ma il secondo Il messaggio appeso Eh ma chi l'ha preso il messaggio appeso raga Io non ce l'ho Tu l'avete preso No raga io non l'ho preso Ce l'ha qualcuno di voi Ehm Mario Anna forse No ci stavi tu lì No no allora Prima di tutto non mi borbottare nelle orecchie Seconda cosa di tutto Guarda che ce l'hai te Contro Mario Ce l'hai te per forza Perché io mi ricordo Allora ce l'ho io Aspetta Se ce l'ho io Ti perdono Ti perdono L'avevi messo nell'ender pouch È vero Bravo Mario Bravo Mario Sei perdonato Grazie no Per una volta Sì Per una volta Ma non sei perdonato Perché l'ultima volta Mentre noi eravamo in giro Vi ricordate a cercare Il secondo dei grandi antichi Tu Stefano ti ricorderai sicuramente Lui ti spiava Bravo Sì 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 Mi ricordo È vero È vero È vero La povera Anna da salvare Lì nel laboratorio dell'intruso risorto Io non ci ho pensato Ma adesso guarda un po' come mi torna in mente È schifoso Cosa ci facevi che mi stavi guardando Ma magari per caso vi siete incrociati No no Eravamo andati È vero Stavamo insieme e lui se ne è andato Esatto Eravamo in due direzioni Eravamo andati in due direzioni opposte Non c'era giustificazione Comunque Non voglio sapere niente Ma sappi che ti schifo Comunque Dobbiamo sconfiggere i tre grandi antichi Per svelare questo posto Noi ne abbiamo già sconfitto uno Ce ne mancano altri due Uno dei tre potrebbe essere dentro quella fortezza grande là Non ti schifo comunque Scherzavo Però a volte fai delle robe veramente schifose Per il momento ognuno di voi può indossare gli stivali di gomma Che ho fatto per ciascuno E in teoria questi qui Vedete Dovrebbero servire Per evitare Oh no Ammetti si fa camminare Vedi Questi ti evitano di sprofondare nel fango Quindi sono buoni Tanto per me non ha nessuna differenza Io armatura non ne ho più E anche voi Da quello che mi avete detto A me è quasi rotta Eh quasi rotta Ok Allora Anna mi metti a terra l'animator qui Così possiamo fare l'ultima cosa Poi andare dentro il posto Il castello Ti serve anche la crafting table? No Ho tutto Allora Mi serve Vieni ti passo Sì Mario grazie Ok La gare principale Allora questo qui ragazzi L'abbiamo deciso di fare Perché sarà un grande aiutante Non soltanto Faremo sia il minion di catrame Che Alcuni si ricorderanno E chi si ricorda Può scrivere tranquillamente Io cero Ma chi non si ricorda Non si preoccupi Perché sta per vedere una bella magia Si chiamava Miglio l'artiglio A suo tempo Tanti anni fa Era bravo Era forte Era molto forte Era fortissimo Quindi magari ci può aiutare Per sconfiggere qualcosa Qualche pericolo Che ci sarà lì dentro Magari Non lo so Potrebbe essere utile Anna che dici no? Qualcosa Secondo me è utile Comunque una mano in più Ci serve sempre Gli metto anche un bel po' di zolfo Perché altrimenti giustamente Non stava partendo neanche l'animazione Ed eccolo qua Vedi Adesso non so quanto tempo ci vuole Vi propongo Potremmo anche decidere Di lasciarlo qui Iniziare ad andare Che dite Può essere Possiamo girare un po' Però non allontanare E se lo rubano Eh è quello il problema Perché vedi che è forte No aspetta Ha già fatto Ci voleva È già pronto? Sì Ci voleva veramente poco Intanto ho messo anche le spore Che sono quel funghetto Che abbiamo Vuoi fare anche quello alla fine? Sì sì certo Facciamo anche lui Allora il minion è questo Guarda guarda Ai Che è successo? Non lo so È un po' strana sta cosa Non aveva mai attaccato Eh non uno di noi Però penso che Cioè effettivamente non Non ti sta attaccando più Vedi è normale Ma non mi sta attaccando più Forse all'inizio era Non lo so perché l'ha fatto Ma questo coso cresceva Vi ricordate se cresceva? Sì 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 Ma come? Ecco il fungo anche Guarda Ma scappa Tossico Eh ma non Scusate Che carino Ma secondo te Prende gli ordini da te Ti segue Fa qualcosa in relazione a te Visto che l'hai creato tu Non lo so Ma sinceramente non è che mi sembra Che sia così utile Perché vedi Il piccolino di Catrame ti segue Lui sì Ma quello è scappato Si sta facendo gli affari suoi Io sinceramente non so se ha un'utilità Però vabbè dai ragazzi Non possiamo fermarci così A perdere tempo E a ragionare troppo Io intanto Ho anche equipaggiato Aspetta fermati fermati Che c'è? Mi è appena arrivato un messaggio No ma come oh? Ma allora ci fai apposta Ma allora non si può fare niente con te Ma scusami eh Oh cavolo Leggilo Leggilo subito Eh subito Subito Quando me lo dai Io lo leggo È arrivato adesso Proprio adesso Sì certo Allora dice sì Cosa dice? Sì Uccidi i grandi I tre grandi antichi Ma non sarà Non sarà abbastanza Per rompere il mio sigillo Come non sarà abbastanza? Sì Uccidi i tre grandi antichi Non sarà abbastanza Per rompere il mio sigillo Ma scusa Ma è prima Abbiamo letto Ma il sigillo di chi? Svelare questo posto De questo mondo Dell'apocalisse Il primo dei messaggi diceva Devi sconfiggere Tre grandi antichi Per svelare questo posto Ok? Ok va bene questo E Uedua dice Sì Sì Come dire Ah sì certo no? Uccidi i tre grandi antichi Non sarà abbastanza Per rompere il mio sigillo Quindi Ho capito Una volta uccisi i tre grandi antichi Possiamo trovare il sigillo Eh però Però ci sarà da fare un'altra cosa Per rompere Un'altra cosa Ok Ok Ma il tavolo lo lasciamo là dentro? Giusto Fammelo andare a riprendere Che non ci sa mai Noi intanto andiamo avanti Tanto con gli stivali In teoria non dovremmo sprofondare Né nel fango Si sprofonda Si sprofonda nelle sabbie mobili Sì sì Lo beccare lì E allora stiamo attenti Cerchiamo di non sprofondare niente Va bene Non voglio che ci lasciamo le penne In un modo stupido Se dobbiamo morire Per favore Cerchiamo di morire da eroi E non da cretini Va bene? Ora Guarda se inizio Stiamo avvicinando tanto Attenzione Qua facciamo un bel salto Che nell'acqua ci sono schifezze Mi ricordo anche le sanguissughe Qua dentro questo mondo È un porcaio Fa schifo questo posto Fa veramente schifo Allora Se Anna è arrivata Possiamo iniziare a vedere Sono qui Ci sono delle statue grosse per terra Questa è una statua Sembra essere una specie di Tipo un trono Vedi? E ci sono anche Delle specie di luci Vedete delle luci dentro la statua Di vero? Ai no! Lion sei bene? No! No che non sto bene Sono stato smitragliato Era che non succedeva Eh vuol dire che l'intruso Ci sta guardando adesso Quando ci sono i fulmini Non lo so Sicuramente se sta qua dentro È tutto che io questo posto Non me lo ricordo per niente Allora questa qui si chiama 4 335 Sludgeon Tower E mi è apparso un achievement Che dice Accendi i braceri Quando siamo qua fuori Va tutto bene Non succede niente di male Appena entriamo dentro Questa specie di struttura gigante È invivibile È invivibile Praticamente calano no? Come se fosse una cosa Pesantissima da caricare Ma in realtà è soltanto Un castellino Non sembra Non è così grande Magari devi entrare soltanto tu Potrebbe essere un po' più leggero Se entra solo una persona Allora ci possiamo provare Però Il problema lì dentro È che se ci sono da accendere Dei braceri Serve l'accendino di questa dimensione L'accendino di questa dimensione È costituito da due oggetti In teoria dovremmo avere qualcosa Ci servono i lingotti di octine Che ne abbiamo trovati Ok E poi ci serve anche un altro oggetto Che si chiama tipo Pirad Flame Mi pare Una specie di fiammella Pirad Flame Ce l'hai? Quello ce l'ho io Vieni lingotti Datemi tutte e due le cose Bravi eh Ok Ah sì mi ricordo Queste le avevamo trovate Nelle prime casse Che abbiamo aperto Ne ho qualcun'altra se serve Dammi anche qualcun'altra Non si sa mai che si consumano Ok Grazie mille Noi ti aspettiamo qua fuori Allora provo ad entrare solo io Ok Vai tu Di qualcosa ti proteggo dall'alto Va bene Spero che così Vedi Vedi Io per ora sto andando bene Però appena mi avvicino Sembra che ci sia qualcosa di strano Qualcosa di Di super pesante Cerco di fare più in fretta possibile Quindi faccio la corsa fino a sopra Più velocemente possibile Abbiate pazienza se non si vede benissimo Ma sinceramente non saprebbero cosa fare Poi Per accendere i braceri Siccome nell'achievement c'era Anna vai via però Anna così non risolviamo niente Sì sì sono via Sono via tranquillo Scusami eh Allora dovrei accendere questi quattro braceri Io mi metto vicino dall'alto così E uso il lingotto Oppure la fiamma No no raga non accende Forse devi combinarli No mi sa che serve Perché era un acciarino qualcosa No 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 Serve qualcosa da bruciare Perché i braceri sono vuoti Quindi mi serve della moss Qualcuno di voi ha della moss Controllate Anna sbrigati Controlliamo subito Qualcosa moss Forse sta qui intorno No no io sono sicuro Che qualcuno di voi qualcosa ce l'ha Perché ne abbiamo trovato Sono tutte cose che c'erano Dentro le casse che abbiamo aperto Verso l'inizio Moss Sarebbe la muffa Ok tipo È tipo muschio Ah ok ce l'ho ce l'ho Cosa verde Tieni Grazie mille Sì queste sono tutte cose Che c'erano dentro le Le casse all'inizio Che abbiamo trovato Grazie mille Allora ci provo eh Io non lo so Ho paura che Non so neanche se è l'oggetto giusto Perché questa si chiama Ball of moss Non moss e basta Forse ho capito Forse ho capito Verso fuoco ai braceri No Però ci sto Ci sto provando Allora in teoria io devo mettere Della muffa Sopra il bracere E poi tenere premuto così E ho dato fuoco ad uno Ok Ha funzionato Si è acceso Si 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 Quanti ne mancano Ne mancano altri tre Allora butto un altro muschio qua E si è acceso tipo un raggio di luce assurdo Eh guarda Lo vedo si sta illuminando tutto il tetto Ci sono tipo dei raggi di fuoco Che collegano un cristallo che è al centro Con i quattro braceri Quindi in teoria Quando io accendo gli altri braceri Dovrebbe succedere qualcosa di importante qua dentro Magari si potenzia il cristallo Si attiva O forse si apre Magari si toglie quella barriera Eh può essere Il problema è che è difficile Perché altrimenti vedi Io devo cercare di non riraccogliere nuovamente Il muschio Questa roba no Perché è l'unica cosa che dà fuoco al bracere Serve quella Ci siete là sotto Oh non vi ho addormentato Sì 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 Ci siamo Stiamo combattendo contro i mostri Ah questo può essere un problema Cercate di non morirci Mi raccomando Che qua la situazione Tranquillo non sono tantissimi Però tu fai in fretta Ti prego Aumentano però Ci sto provando ragazzi Non è semplicissimo Neanche quello che devo fare io Ok ci sto provando Ecco Ok li ho accesi tutti e quattro Ed è nato Sono dati dei mostri Qua dentro Come dei mostri Lion Tranquilli Ti servo una mano No 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 Me la cavo me la cavo me la cavo È solo che Tra un problema e l'altro Non è proprio semplicissimo Però voi pensate a voi stessi là sotto Va bene io penso a me C'ho il martello Se ho bisogno però veniamo su eh Se ho bisogno scappo Mi raccomando eh Non perdetevi in chiacchiere Io sono tipo mezzo caduto È successo un pandemonio qua dentro raga No 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 Non è possibile Vengo via Vengo via Vengo via Vieni via Anche perché non si riesce a capire nulla Allontaniamoci dalla torre Vieni qui Vieni qui da sotto Si vede che c'è un raggio nella stanza centrale Lo vedi Ma che disastro Sto posto è un disastro raga eh Perché dobbiamo venire qua dentro Cioè è impossibile Ma siamo sicuri che sia un posto veramente utile A quello che stiamo cercando di fare Porca di dire c'è tutta questa situazione Poi tutto questo fatto dei Dei braceri Dei raggi che si illuminano Secondo me è un segno Eh ma li hai accesi Laggiù c'è un raggio Ma non è successo nient'altro E forse dovevo uccidere La maniera c'è ancora Aspetta fatemi provare ad ammazzare Sti cosi qua sopra Perché magari dovevo fare qualcosa Perché qui vedo che Sta succedendo dell'altro L'unico problema è che Veramente raga Non riesco Non riesco nemmeno a utilizzare le armi Cioè talmente vedo male Proverai ad aiutarti a colpirli a distanza Assolutamente no Allora Dal cristallo al centro Si sono accesi quattro raggi Agli angoli Ed è una cosa spettacolare Mi dispiace che voi non possiate vedere bene Perché è veramente bello Al centro poi Sempre dal cristallo Ho un raggio che va giù Esatto E passa attraverso Tutti i livelli del tempio Quindi potrebbe essere Che noi magari O dobbiamo rompere il cristallo Ma sinceramente non mi sembra Controlla gli altri piani anche Potrei provare a romperlo Ma sinceramente ho paura Che poi magari esplode tutto Si va a distruggere No 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 Magari facciamo danno rompendolo Io potrei andare a vedere Gli altri Gli altri cosi Però sinceramente non mi convince Perché ho paura Che se io scendo di sotto Mi ricomincia a scattare E non riesco a capire niente Perché vedi Toh già Se mi muovo di così Io non so se nel video Si vedrà tanto Ma vi assicuro che giocare Così È difficilissimo È tipo una difficoltà aggiuntiva Allora Al secondo piano Ci sono Tipo delle lanterne Ok E sono tante Io Ma io vi direi Ma le puoi toccare Puoi farci qualcosa No Non credo Posso provare a romperle Ma sinceramente Non penso di potere nemmeno E il cristallo Non al piano di sotto Al centro La luce del cristallo Attraversa anche questo piano E al piano di sotto ancora A parte uno schifo Che non ne ho visto Ma è uno brutto così Però al piano di sotto L'ultimo piano C'è Dello schifo Che mi sta rallentando Ed è una cosa Incredibilmente fastidiosa E poi E poi niente No No C'è sempre il raggio Che arriva fino a qui Però io Ma magari bisogna Piazzare qualcosa Nel punto in cui Il raggio cade Perché vedi Cade proprio preciso Io mi potrei provare A mettere io stesso Ma non posso rompere nulla Vedi Se cerco di danneggiare qualcosa Si Mi fa un effetto Come se non potessi toccare niente Ragazzi serve un'idea Ok Dovete mettere il cervello A buon uso Dobbiamo trovare la maniera Di aprire questo tempio Magari qualcosa qua intorno pure No Fuori da qui Non credo che ci sia niente Stefano Qualche idea Qualcosa di intelligente No nulla Eh beh non ne lo dubbi Sotto magari sotto il raggio Non è una buona idea Non posso rompere niente Non credo Io ho paura che rompendo qualcosa Crolla tutto Come con la torre dell'altra volta A parte i tuoni Che ci stanno Si sentono un po' in lontananza Mi sembra che io lì dentro Non posso proprio toccare niente Quindi sinceramente Credo che l'unica cosa Che possiamo fare Sia attivare qualcos'altro Sopra dai braceri Però boh Ho attivato i braceri Cos'altro devo fare Non lo so Guardate in cielo Ci sono dei raggi viola Si non è quello Che ci interessa adesso Ok Ci abbiamo problemi più grandi Controlliamo però Prima non c'erano Scusa figlio dei fiori Abbiamo un problema più grande Ok Allora Finalmente questa zona Sembrerebbe essere vivibile Si sono spenti Quei raggi che c'erano Sopra al centro Io ho toccato alcune delle lampade Le ho fatte girare E sembrerebbe che sia aperto Un passaggio qui dentro Quindi forse Quindi si scende Forse si scende Guarda è stata una cosa Veramente fastidiosa Da fare Perché lì dentro Io andavo Completamente a scatti Credo che fossero Quei raggi Non lo so Non ci interessa Probabilmente si Ok Forse qua dentro C'è quello che stiamo cercando Quindi per favore Non sia peggio eh Seguitemi Siamo in un labirinto Eh perfetto Perfetto Ci voleva un labirinto Ci mancava Ma è un labirinto sotterraneo Tipo delle pozze di acido Sto stai frullando Si Non è Si Gocciola tipo da sopra Ok Si è rotto Si è rotto un blocco Perfetto Allora cerchiamo di non toccare Quella roba Dove gocciola l'acido Ok tenete le torce in mano Perché sembra Non è che sia buio Però Ho paura che Capito L'aerobrine beast Qualcos'altro Non lo so Credo che dobbiamo trovare Il punto dove bisogna arrivare No qua dentro Possiamo accendere Occhio di qua Ascoltate Con le torce si possono accendere Le candele Quindi Se ci ricordiamo di accenderle Possiamo segnarci Dove siamo già passati Va bene Che cerchiamo di preciso In teoria stiamo cercando Un Una sorta di Un grande antico Quindi dovrebbe esserci un'arena Qualcosa Un boss da affrontare È una zona gigante comunque Qua c'è una specie di Di mensola Con delle specie di pozioni Qualcosa di utile Non lo so Non riesco a prenderle nemmeno Sentite Non perdiamoci in chiacchiere Ok Cerchiamo di arrivare alla fine Così ce ne andiamo il prima possibile Bisogna trovare Dobbiamo trovare Allora Serve Stefano Tu devi essere il marchiatore della strada Non sprecare le torce Devi soltanto segnare Dove già siamo stati Ok L'unica cosa che devi fare Non siamo stati Non siamo stati di qua Lion Allora qua siamo andati Mario è un po' addormito Però Secondo me Da questa parte Può essere la strada giusta Sempre segnate il passaggio Non passate su quelle pozze Ci penso io Accendo la candela Accendete le candele Attento attento Cos'è Che schifo Che schifo Porca mia No 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 Un altro qua Allontanati È una tana È una tana Ne escono altri Che schifo Ti pego No 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 Porca miseria Ma avete visto Muoviamoci Oh c'è n'altro Escono dai muri Escono dai muri Che schifo Che schifo Corri Corri avanti Guarda 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 Che schifo Ok Allora ascoltate calmi Credo che si possa menare il nido Ok Quindi quando Ok Però voi rimanete Piccola la mano Sì Attenzione Sempre attenti Escono dai bordi Tipo dalle zone E vedete che è impossibile da distruggere Come anche il tempio sopra Guarda Se tu cerchi di picconarlo Vedi come fa È distruttibile Si illumina Ho fatto un sacco e non puoi E non puoi Non puoi Quindi l'unico modo che abbiamo per procedere È effettivamente arrivare fino alla fine Ogni tanto si beccano delle casse Con dentro cibo Pieno di roba E altre cose Vedete voi Ok Se prendete qualcosa di utile Magari troviamo qualcosa di utile Sì Così quando abbiamo bisogno delle cose Posso essere felice di avere voi Che ce le avete già Venite avanti Che io sto procedendo Cerco di Di seguiamo Dare una mazzata Sempre anche a dove potrebbero uscire Quei vermi schifosi Ci siete tutti Anche Anna dietro Siamo tutti dietro Sì Ok Non so quanto durerà sto posto Però credo che Ecco Ok Ok Allora Siamo davanti Torce 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 Siamo davanti a una specie di portone gigante Con un sigillo Ok Sigillo Un sigillo Vedi Qua c'è scritto Sì Che vuole una chiave qualcosa È vero Sigillo Potete uccidere tutti i grandi antichi Ma non sarà abbastanza Per rompere il sigillo Quindi Ma non li abbiamo ancora ammazzati Eh può essere che bisogna Può essere che siamo arrivati alla zona finale Dove bisogna andare dopo aver ucciso tutti gli altri E invece noi non abbiamo ancora ucciso Un accidenti di niente Mi sembra difficile Oh no È un enigma invece Vedi È un enigma Per favore Non lo so È una forma che si crea Mettendo insieme delle parti di questa specie di mosaico Quindi in teoria noi dobbiamo girarle Fino a che non riusciamo ad ottenere un simbolo Il problema è che questo simbolo Noi dovremmo averlo già visto da qualche parte È un'emmeria di quella che si crea un'emmeria di questa specie di mosaico Quindi mi sembra che ci ho da un'emmeria di questa specie di mosaico